buonasera ragazzi oggi puntata speciale visto che siamo in pausa campionato volevo un attimo un momento di nostalgia per i fan playstation i fan anche dell'inter no perché no fifa 98 playstation 1 andiamo a vedere che bella formazione aveva l'inter sariamo il disco tech e vediamo un po diamo un po mamma mia che tempi che tempi 98 sono passati tanti tanti anni perché non c'è qua allora scarte mamma mia ragazzi che nostalgia ragazzi che nostalgia andiamo un attimo a vedere mamma mia mamma mia questa è storia questa è storia stagione 97 98 era una grande inter mi ricordo era il primo anno di ronaldo mamma mia che storia è un classico fifa 98 mamma mia mi vengono quasi le lacrime mamma mia che storia che storia fantastico fantastico madonna mia madonna 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 adesso si carica ci siamo quasi e ragazzi fifa 98 ho fatto la storia era un grande gioco all'epoca guardate qua ragazzi mamma mia questa amichevole vediamo un po chi italia no uefa aspetta america no 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 aspetta devo andare su italia giusto eccolo qua serie a vediamo un po l'inter eccola qua mamma mia che forti oh basta facciamo inter no facciamo cacchiate inter contro ho messo così inter ajax così così a caso in uno stadio inglese così a muzzo a londra vediamo un po adesso che cosa ci aspetta ma madonna andiamo a vedere qua chi c'era andiamo a vedere qua chi c'era andiamo a vedere qua chi c'era niente proprio di meno che è paiuca sartor sartor madonna 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 che nostalgia qui abbiamo paiuca sartor difesa fresi yuri di orca f mamma mia che giocatore di orca f che giocatore di giuri giocare galante difesa vediamo un po taribo west taribo west taribo west nicola berti questa è storia stiego pablo simeone grandissimo grandissimo winter viva inter rivas che sinceramente rivas non non mi ricordo bene un bel ronaldo luiz nasario della lima ronaldo arrivato l'estate 97 come ben sappiamo e poi zamorano zamorano un attacco micidiale branca a centrocampo marzantini secondo portiere ganz maurizio ganz re cobalcino anche lui appena arrivato e boh ho finito qua però ragazzi questa è una formazione incredibile questa incredibile comunque beh adesso provo a fare una partita vediamo cosa viene fuori con questa formazione qua andiamo a vedere andiamo a combinare qua andiamo ronaldo palla per winter attenzione winter se ne va ha parato mamma mia che gra che grafica ragazzi vabbè l'epoca è 98 98 comunque ci gioco volentieri anche adesso eh viene mai agli occhi che mi chiese piletti però vediamo giocano pulgarelle il massimo caputo commenta attenzione dov'è ronaldo ma perso la palla attenzione attenzione ronaldo 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 no parato parato via ronaldo madonna fosse andato a milan quest'altro mi starebbe meno sul cazzo è un giocatore però sì per carità e alla fine magari non andava d'accordo con cooper però è stato troppo sul culo quando è andato al mina troppo sul culo dobbiamo poter scaffare un gol così ve lo faccio vedere almeno dove sono i tasti qua andiamo winter occhi a lui ronaldo 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 attenzione il dribbling c'è il gol ronaldo 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 eccolo qui eccolo qui il gol vediamo si ammazzano guarda che stanno facendo ecco possiamo vedere di nuovo l'accaduto vediamo un po l'accaduto gran gol beh ragazzi io concludo qui questo momento speciale nostalgia vi auguro buona pasqua vediamo un po come andrà a finire qua inter ajax forse inter sempre ciao ragazzi a presto